Questa affascinante residenza nel comune di Ascoli Piceno, risalente al XVII secolo e completamente restaurata negli anni Ottanta, è una prestigiosa villa indipendente con una vista spettacolare sui monti. La sua posizione in una fascia residenziale sopra la zona Monticelli offre un equilibrio perfetto tra riservatezza e vicinanza al centro città di Ascoli, raggiungibile in pochi minuti. La villa si estende su una superficie complessiva di circa 445 metri quadrati, distribuiti su tre piani. Il piano leggermente seminterrato ospita una spaziosa taverna, un accogliente salone-salotto, una cantina e un cucinino. Una scala interna collega questo livello al piano superiore. Al piano terra, un imponente ingresso conduce a un ampio corridoio, dove si trova un grande salone con camino, una cucina abitabile con accesso a un generoso patio esterno di circa 60 metri quadrati, un bagno, una camera da letto matrimoniale, uno studio ed una ulteriore camera da letto al piano soppalcato, particolarmente suggestiva. Il primo piano vanta due ampie camere da letto matrimoniali, un ulteriore bagno e una scala a chiocciola che conduce alla mansarda sottotetto, completa di un terrazzo panoramico. Il sottotetto attualmente consiste in un unico ampio vano, ripostiglio e bagno su cui potrebbero essere ricavate altre due stanze da letto. La proprietà è arricchita da una corte esterna pavimentata di circa 182 metri quadrati, un ampio parcheggio per varie autovetture ed oltre 3.700 metri quadrati di spazio esterno a parco, che include un suggestivo giardino, un uliveto e un boschetto privato con un'antica grotta utilizzata nell'antichità per la raccolta dell'acqua. La villa, oltre a rappresentare un oggetto unico e di grande prestigio grazie alla sua storia, è già predisposta per essere divisa in due unità abitative con ingressi indipendenti. Questa caratteristica la rende la soluzione ideale per ospitare più nuclei familiari, offrendo flessibilità e comfort in un contesto di raffinata eleganza. Grazie. Grazie. Grazie.